Domenica con la cotenna, non a tutti piace, lo so, io sono la prima, ma da un profumo abbiamo fatto un sugo tirato tirato, adesso la cotenna la metto da parte, chi la vuole mangiare la mangerà e se no ha fatto il suo lavoro. Ci vediamo a pappardelle e cotenna finite. Ecco, abbiamo messo da parte la cotenna perché avrà voglia di mangiarla, se no il suo lavoro come dicevo l'ha fatto, le pappardelle all'uovo ruvide, adesso sto mescolando piano piano, ho messo un po' di sugo sotto prima e il resto dopo, ho messo la pasta, siamo perfetti. Noi vi mandiamo una fottina del piatto finito in un bel colore, cosa scegliete? Verde o giallo? O sparate anche qualcos'altro, che ne abbiamo tanti. Baccetti in aria. Ciao. Ciao. E allora? Dopo questo piatto cosa dici? Piatto pulito. Buon appetito. Esatto.